ciao ragazzi eccoci con una nuova sfida sfidato di numero 2 andiamo presto presto a completarla io ho usato come potete vedere come nazionalità Francia Brasile che ho usato di più che avevo più giocatori del Brasile erano scambiabili e Argentina quindi vabbè quello AS l'ho messo giusto perché ormai non mi serviva più niente come intesa quindi l'ho buttato così giusto per invece se voi non ci arrivate all'intesa mettete o un francese o un brasiliano e andate subito questo ve li ho fatti vedere non ci ho fatto caso questo l'ho messo giusto per e questo è l'ultimo andiamo ad aprire anche il pacchietto se ci permette aurorani non scambiabili vediamo un po' che cosa troviamo lì dentro il pacco ecco l'orari non scambiabili 81 o più anglia ok rushford 81 buono 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 speriamo che non buttiamo molti questo si va questo si sblocca dimmi che è scambiabile ok bene e anche Fofana perfetto un ombra un cacciatore più bene di così apriamo anche il pacchiettino questo tanto questo è scambiabile un po' vabbè oro normale questo questo quello sopra gli altri li buttiamo al club e io vi ringrazio ragazzi e ci vediamo con un prossimo ciao ciao ciao